Ciao a tutti da Estimato.com, quest'oggi facciamo vedere una piccola sessione di gameplay con l'assetto corpo e con il volante per la spazio più 300, in questo caso a bordo delle Formula 1 della passata stagione. Le Formula 1 che troviamo in questa sessione di gioco non sono vetture ufficiali, direttamente sviluppate da tutte le simulazioni, ma sono sviluppate da terze parti, sono delle mod, però possiamo dire che sono fatti davvero bene, infatti ve ne consigliamo il download in quanto hanno una fisica davvero da riuscita e anche esteticamente sono gradi evoli. Vi facciamo vedere questo piccolo video gameplay in una situazione di gara sul circuito del Nürburgring GP, con altri sette avversari, sette avversari di Formula 1, in questo caso Mercedes, Williams & Lobs. Vi lasciamo quindi al video gameplay e speriamo di viaggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.